Le persone qua attorno sembra che non sappiano nemmeno che esiste un mondo là fuori. Potrebbero vivere anche sulla cazzo di luna. Ci sono molti tipi di ghetto nel mondo. Esiste un unico ghetto, Marty. Un enorme cloaca che fluttua nello spazio. Posso farti una domanda? Allora, in cosa credi? Credo... Credo che la coscienza omasia sia un tragico passo falso dell'evoluzione. Siamo diventati troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un aspetto della natura separato da se stesso. E non dovremmo neanche esistere secondo le leggi stesse della natura. Siamo cose che si affannano nell'illusione di avere un sé o una coscienza e questo incremento delle esperienze sensoriali, delle emozioni. Non è altro che il programmato per assicurarci che ognuno di noi è importante, quando in realtà nessuno è importante. Siamo tutti insignificanti. E credo anche che il passo più giusto che la nostra specie dovrebbe fare sia rifiutare la programmazione. smetterà di riprodursi, andare a mano a mano verso l'estinzione. Ma allora che senso alzarsi dal letto alla mattina? Io dico a me stessa che sono una testimone. Ma la realtà è che sono stata programmata così. E mi manca la disposizione al suicidio. La mia fortuna è aver scelto oggi per conoscerti meglio. L'inista tu. Io ora ti supplico, chiedi quella cazzo di bocca.